Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda Risponde. Questa settimana parleremo di concorsi scuola per docenti, per dirigenti scolastici, è uscito il bando per i docenti di religione cattolica. Vediamo un po' la prima domanda. Quanti posti sono stati banditi per il concorso a docente di religione cattolica? Come si procederà per compilare la domanda? Si parte con il concorso ordinario per docenti di religione cattolica. Tale procedura è stata bandita per coprire in totale 1928 posti vacanti, di cui 927 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La domanda potrà essere compilata facilmente utilizzando il seguente link concorsi.istruzione.it slash piattaforma concorsi web istanze liste istanze aperte Cliccando sul link che vedete in sovraimpressione potrete entrare a compilare la domanda dalle ore 14 del 5 novembre alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024 Domanda numero 2 Il concorso per dirigenti scolastici Quindi vogliamo sapere quali tempi ci sono per conoscere gli ammessi alla prova orale e il suo espletamento Per adesso sappiamo con certezza che i vari USR, uffici scolastici regionali hanno pubblicato la lettera estratta per l'avvio delle prove orali Quindi già una concreta predisposizione a partire con la fase degli orali È presumibile quindi che entro la fine di dicembre ci possano essere gli esiti della prova scritta e che quindi la prova orale possa partire verso marzo-aprile e che per giugno-luglio si abbia la nuova gradatoria di chi ha superato il concorso a dirigente scolastico Domanda numero 3 Quando sarà pubblicato il bando tanto atteso del concorso a cattedra PNRR per i docenti dell'infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado Si prevede che entro il mese di novembre dovrebbe essere bandito il concorso a cattedra PNRR Dunque non ci siamo spostati rispetto alle previsioni del passato Era novembre il mese in cui sarebbe dovuto essere bandito questo concorso e molto probabilmente questo sarà questo mese Se ci saranno ritardi si andrà al massimo entro dicembre ma comunque entro il 31 dicembre 2024 dovrà essere necessariamente bandito Si tratta di un concorso che mette a bando circa 20.000 posti ordinari ma di cui 6.000 sono però di docenti di sostegno Sono circa dunque 14.000 posti comuni e 6.000 posti di sostegno per un totale di 20.000 posti Questo dovrebbe essere quello che verrà messo a bando anche se i posti disponibili sarebbero sicuramente di più si potrebbe arrivare tranquillamente anche a bandirne 30.000 di posti però è prevista questo numero di posti disponibili Anche per il concorso PNRR si utilizzerà la piattaforma delle procedure selettive dei concorsi Dunque speriamo che ben presto venga bandito anche quest'altro concorso Speriamo che le risposte alle domande che ci sono pervenute siano utili ai nostri telespettatori Seguiteci sui nostri canali facebook, youtube dove andranno in onda delle dirette anche tematiche sul tema dei concorsi che possono espletare i docenti Un saluto a tutti e alla prossima puntata Arrivederci Grazie